Siamo con Stefano Chiaravalli, medico di Oncologia Infantile dell'Istituto dei Tumori di Milano e appunto il referente per l'associazione Bianca Garavaglia che in questa manifestazione fa da fulcro oltre alla gare agonistiche per supportare, dare speranza, dare sostegno alla vostra realtà che sicuramente ha un cuore importante. Buonasera a tutti, grazie perché ho percepito veramente una passione per questo sport, il binomio sport-solidarietà è fantastico perché anche grazie appunto a questa gara, al vostro servizio, noi possiamo svolgere il nostro lavoro con opportunità sempre migliori. Ricordo sempre come veramente se non ci fosse un supporto, un tessuto sociale di volontariato, di supporto noi non potremmo realizzare tante iniziative, tanti studi, tante ricerche che in realtà migliorano l'efficacia appunto dei nostri trattamenti e le speranze di vita dei nostri bambini e ragazzi che ci vengono affidati. Per cui grazie. Quindi descrivendo un po' il ruolo dell'associazione nel supporto al vostro lavoro? L'associazione grazie appunto ai fondi di iniziative come queste finanzia dei progetti di ricerca numerosi che appunto affiancano la cura appunto nel mondo dell'oncologia pediatrica. Per cui grazie appunto al supporto dell'associazione, dei privati, del volontariato noi riusciamo insomma a dare un di più appunto nella cura della patologia tumorale in pediatria. Grazie mille dottore. Grazie a voi. Grazie. Grazie.